ciao a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale primo video chiamiamolo ufficiale dell'anno nuovo 2024 siamo ancora un po reduci da questi postumi influenzali quindi diciamo che l'olfatto ancora non è ai livelli ai livelli massimi per poter diciamo operare e fare nuove considerazioni sui profumi e quindi ecco oggi voglio fare con voi una sorta un po di come dire riepilogo di quello che è stato diciamo la fine del 2023 quello che sarà all'inizio del 2024 con quelli che poi saranno anche come dire un po le decisioni e lo sviluppo delle shop in modo tale da farvi capire un po la strada che vorrei andare a percorrere prima di tutto però vi chiedo sempre la solita gentilezza se già non l'avete fatto o non l'hai fatto iscriviti attiva la campanella perché rimani sempre aggiornato su tutte le novità del canale ma soprattutto anche delle shop e ti ricordo e vi ricordo che la maggior parte delle promozioni vengono solo ed esclusivamente pubblicate qua su youtube in modo tale da dare la possibilità a tutti voi che vi siete iscritti di avere in anteprima tutte quelle che sono e saranno le promozioni in essere allora apro come al solito ma non per retorica ringraziandovi tutti ringraziando per il supporto che mi date sotto tutti i punti di vista è stato insomma un fine un fine anno abbastanza impegnativo dal punto di vista lavorativo ne sono veramente fiero e contento come avete visto abbiamo raggiunto e superato abbondantemente i 1000 iscritti sul canale sono veramente contento e vi ringrazio vi ringrazio nuovamente allora partiamo subito con una situazione un po diciamo non anomala però che mi dà mi dà come dire un po tra virgolette no frustrazione perché perché ancora non ho l'olfatto ai livelli insomma massimi ma come avete letto dal dal titolo andiamo un attimo ad analizzare due novità che valutiamo e valuteremo insieme sulla base magari qualcuno di voi ha già avuto modo di sentirli questi due profumi sono due novità in casa mesona lambra attualmente ancora in commercio qui in italia io non li ho non li ho trovati quindi sono specializzati all'estero è un pacchettino che ho ordinato prima prima di natale con dentro due sorpresine che secondo me sono veramente veramente interessanti la prima è questa qui adesso ve le faccio vedere con calma non non fatevi prendere dalla dalla smania di vedere che cos'è io lo so che ovviamente li ho ordinati però secondo me sono due cose molto molto importanti allora non vi dico niente vediamo vi faccio vedere dalle immagini vediamo se riuscite a riconoscere di cosa stiamo parlando la prima è questa colore della scatola direi assolutamente riconoscibile stiamo parlando dell'eau de toilette di acqua di joe che andremo ad analizzare appena avrò come dire un minimo di olfatto disponibile per valutarlo perché se no non ha senso anche perché questi due sono due prodotti che io voglio valutare bene e capire se ci sono le condizioni per inserire all'interno delle shop ricordatevi sempre che lo scopo delle shop e anche del canale è quello di andare alla ricerca di quei prodotti che meritano veramente di essere come dire valutati sotto sotto tutti i punti di vista sicuramente per in certi casi la somiglianza per altri casi no per il loro dna personale valuteremo sì quello che sarà la durata del profumo ma come voi sapete dal mio punto di vista io non lo ritengo solo ed esclusivamente un elemento essenziale per tra virgolette promuovere o bocciare un profumo nel suo in toto ecco questo è un po il discorso l'altro che metto sugli occhiali perché voglio vedere bene di cosa si tratta perché la scatola è tutta nera e questo qua black wood di meson alambra allora qui abbiamo un'ispirazione legata black afgano voi sapete io ero riuscito a trovare un prodotto che è nero afgano old wood che lo trovate sullo shop che ad oggi ritengo che sia in assoluto la migliore alternativa che abbiamo a disposizione a black afgano andremo a valutare insieme cosa sarà in grado di proporci meson alambra in questo ambito ecco insomma diciamo che i presupposti ci sono ci sono in assoluto per per valutare insomma questi due prodotti spero nel miglior modo possibile questo costicchia ragazzi dei fornitori c'è un solo fornitore in europa che ce l'ha quindi adesso andremo un po vedere se vale la pena o meno anche o se anche il caso di aspettare perché perché no comunque i due prodotti in questione sono questi org e di acqua ho detto a let ispirato acqua di jo di giorgio armani e black wood sempre di meson alambra ispirato a nero afgano detto questo allora in questo video volevo fare anche un po il punto della situazione legato ad alcuni prodotti ho ricevuto parecchie mail insomma con con delle richieste di informazioni richieste di prodotti ecco mi sembra assolutamente giusto e corretto mettervi a conoscenza un po di quello che è di quello che sto in questo momento facendo per cercare di diciamo risistemare un po quello che è lo stock relativo alle shop quelle che saranno le possibilità che ho intenzione di inserire ma soprattutto anche ve lo dico in anteprima ci saranno alcuni prodotti che andranno fuori fuori dallo shop ma non tanto per una questione legata a qualità non qualità si vende o non si vende ma perché ritengo che tutto sommato ecco ci siano magari delle 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 situazioni dove certi prodotti dal mio punto di vista un po per quello che sono le rotazioni parlo un po nella parte commerciale adesso del del canale delle shop un po perché comunque ho avuto modo di sentirli testarli nel medio lungo termine ma non parliamo di una giornata e parliamo anche di settimane mesi indossarlo in continuazione piuttosto che a fasi alternate in base al a tanti a tanti fattori ecco quindi andremo a valutare quelli che sono i profumi che andranno fuori fuori stock ecco chiamiamoli chiamiamoli così allora prima di iniziare a fare un po una una carrellata di quelli che saranno gli argomenti che andiamo un po a toccare oggi relativi insomma allo sviluppo delle prossime settimane legate allo shop legate un po anche al canale permettetemi di salutare due persone una si chiama daniele daniele è l'amministratore di un gruppo facebook vi lascio qui in alto poi dopo il link insomma il nome del del gruppo mi ha invitato nel nel suo gruppo è un gruppo che si chiama a naso a tutto di ups come vedete scritto qui in alto un gruppo direi assolutamente interessante dove si parla un po di tutto quello che è il mondo dei di up in generale con i marchi come divane piuttosto come one parfum insomma per darvi un'idea di quelli che sono gli argomenti trattati si tratta un po anche ovviamente del mondo medio orientale arabo perché comunque in certi casi abbiamo decisamente dei prodotti assolutamente ispirati soprattutto in casa maison maison alhambra in particolare e permettetemi di salutare anche marco che è un altro amministratore di un altro gruppo facebook che vi lascio sempre qua in alto il nome mercatino dei profumi arabi low cost abbiamo avuto modo di scambiarci qualche parola domenica scorsa tra insomma una una peripezia e l'altra marco passami passami il termine quindi permettetevi di ringraziarvi di salutarvi con affetto insomma vi ringrazio per per le richieste per quello che avete fatto sul sulle shop allora partiamo subito un attimo mi sono fatto una scaletta ovviamente con quelli che sono gli argomenti principali che andiamo a toccare il primo tra tutti è l'argomento camera camera kawa e anche camera diciamo nella versione precedente quella normale allora qui ci sono due situazioni secondo me distinte separate da sentire adesso io sono riuscito a trovare una nuova fornitura qui in europa quindi senza andare in negli emirati arabi perché perché il profumo soprattutto kawa o kawa significa caffè in buona sostanza è esaurito dal mio punto di vista proprio a livello di produzione quindi quello che sono riuscito a trovare è uno stock diciamo è uno stock finale di quello che è la prima fornitura ufficiale di kawa sto definendo un attimino quello che è il discorso dei pagamenti delle spedizioni e quant'altro come avete potuto notare altri siti lo hanno ancora a disposizione senza volervi invogliare a comprare o non comprare perché non è lo scopo assolutamente mio io quello che sto facendo lo sto facendo in modo tale da poter avere il miglior prezzo ovviamente possibile sul sul mercato è una piccola quantità dovrebbero essere intorno ai 20 pezzi adesso in questo in questo momento preciso non riesco a darvi una data precisa di arrivo però ecco secondo me il tutto dovrebbe risolversi verso l'ultima settimana di gennaio quindi mi prendo diciamo 15 giorni legati al trasporto piuttosto che altre situazioni e quindi ecco questo il discorso legato a kawa mentre invece per quanto riguarda camera la versione precedente anche essa è andata totalmente sold out nel periodo nel periodo festivo quindi natalizio e anche qui secondo me siamo in una situazione dove c'è una fase di diciamo riapprovvigionamento si sta facendo un nuovo stock legato al nuova produzione ecco che deve sarà sarà in arrivo legato a camera questi sono i primi due aspetti che ci tenevo a mettervi in considerazione un po soprattutto per un motivo semplicissimo secondo me ovviamente quando succedono queste cose soprattutto sulle novità che un prodotto finisce praticamente sold out non è più trovabile e vuol dire che ovviamente è una questione legata alla produttività alla produzione del profumo bisogna sempre fare un po molta attenzione poi quando si va a acquistare sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista dell'utente finale perché potrebbero esserci delle situazioni dove i profumi tra virgolette non sono perfettamente pronti no per per dare il meglio per dare il meglio di sé e quindi magari in queste circostanze siccome è già capitato in passato potrebbero esserci delle situazioni dove magari il profumo può avere delle performance leggermente inferiori rispetto a prima piuttosto che eventualmente un aroma che dovrà ancora un attimino andare a svilupparsi ecco questa è la cosa la cosa importante è il primo aspetto legato a camera in generale secondo aspetto legato un po a quello che è l'organizzazione del delle shop allora in tanti mi avete chiesto discorso newsletter newsletter sì allora io qui in questo momento ho un problema legato al software del sito anche qua in teoria adesso non so dirvi con precisione quando questo è stato un sito che io diciamo tra virgolette acquistato un po in fretta e furia per cercare di riuscire a essere operativo il prima possibile considerando il periodo natalizio è un sito diciamo è un software che è un attimo limitato sotto certi punti di vista uno tra tutti è questo qui legato al discorso delle newsletter perché perché non mi dà l'opportunità tramite mail legate a domini vari che possono essere gmail piuttosto che otto mail insomma e via discorrendo di poter legare la mia mail personale all'uscita del delle mail delle newsletter di conseguenza che cosa succede avrei bisogno di una mail legata direttamente al mio dominio il sito mi dà l'opportunità di farlo ma mi dà l'opportunità di utilizzare info chiocciola robbi1976.it solo per farvi uscire quelle che sono le conferme legate agli ordini quindi le mail che ricevete quando io consegno fisicamente i pacchi al corriere che vi arrivano direttamente da me ecco quello è il tipo di mail che mi fa solo uscire il sito cercherò un attimino di valutare se è il caso di cambiare proprio sito quindi andare eventualmente a valutare shopify come shopify perdonatemi come piattaforma piuttosto che farne fare farne sviluppare uno da qualche professionista direttamente da zero in modo tale da avere un po la situazione sotto controllo è una cosa che è legata io spero di riuscire a farlo nel primo semestre di quest'anno per ovviare a questa cosa diciamo le due opportunità che ci sono quali sono la prima è l'iscrizione qui al canale youtube perché io comunque cerco di pubblicare sempre come vedete nei video passati quelle che sono le promozioni in atto le date della partenza alla fine qualche prodotto quali sono i prodotti che sono in promozione e quant'altro la seconda è quella di scriversi sulla pagina facebook robin 1976 perché anche lì ho l'opportunità comunque di condividere insieme a voi quello che è diciamo chiamiamo una sorta di volantino con le promozioni non so se avete notato sul sito in alto ho messo una sezione nuova che è quella delle offerte e ci sono diciamo tutte un po delle slide delle schede riepilogative con quelli che sono i prodotti in promozione per quel determinato periodo e avete la possibilità di cliccare sul bottone andare direttamente alla pagina questa è un po la situazione legata alle newsletter allora veniamo un po a quelle che sono le diciamo le possibilità che sto valutando per l'inserimento di nuovi prodotti piuttosto che nuovi marchi restando sempre all'interno di quello che è il genere ovviamente che voglio che voglio mantenere sul sullo shop allora sto valutando alcuni marchi nuovi marchi che non ho mai sentito come vi dicevo in uno degli ispezioni precedenti lo scopo è quello di riuscire a trovare i prodotti migliori dal punto di vista sì come vi dicevo delle performance piuttosto che della somiglianza piuttosto che in alcuni casi della fragranza di per sé ma lo scopo primario e principale è anche quello di riuscire a mantenere il giusto equilibrio tra quello che è il rapporto qualità prezzo sarebbe abbastanza semplice andare ad inserire dei prodotti che sono già conosciuti che sono già come dire ben presenti nel mercato però ecco lo scopo mio principale nel voler fare qualcosa di diverso perché di questo che si tratta io sto cercando di fare qualcosa di diverso qualcosa che nessuno ha mai provato a fare o non gli è mai venuta l'idea di farlo è proprio quello di riuscire a legare una situazione di equilibrio tra il giusto rapporto qualità prezzo mantenendo con le recensioni sul le recensioni sono umili considerazioni e poi ovviamente sono sempre legate ai gusti nostri personali ricordatevelo sempre di quei prodotti che magari non sono conosciuti e che meritano di avere comunque un'opportunità una possibilità uno tra tutti mi viene in mente un marchio inserito da poco che mesona srar molti di voi hanno già avuto modo di acquistare alcuni prodotti io ho già avuto modo di testarne uno avevo iniziato una recensione prendo lo spunto che ce l'ho qua di fianco a me il profumo in questione questo l'avevo portato diciamo in vacanza con me nel periodo natalizio avevo iniziato già i due spezzoni mi mancava la parte finale perché poi purtroppo insomma la livello di influenza non mi ha dato più l'opportunità di parlarvi mi sembrava corretto proporvi una una considerazione finale avendo una sorta di di patate in bocca passatemi passatemi il termine ma più che altro per avere il giusto la giusta considerazione dal punto di vista della credibilità che secondo me è fondamentale quello che sto cercando e ho cercato e continua a cercare di fare costruire un rapporto che sia legato prevalentemente su un po di fiducia che è una cosa difficile da riuscire a come dire a conquistare passatemi passatemi il termine sono riuscito a farlo bene in passato con le mie esperienze precedenti a livello lavorativo in altri ambiti e questo è uno degli aspetti che voglio voglio portare voglio portare avanti in questo momento come dire i vostri commenti il vostro supporto mi sta dando un riscontro decisamente positivo dei feedback dei feedback positivi perché è vero sì che in alcuni casi tra di noi abbiamo i gusti prevalentemente magari uguali però è anche vero insomma che fino ad oggi non ho passatemi il termine tirato delle sole incredibili perché non è assolutamente il senso mio anche perché voglio dire significherebbe darmi le martellate lì da solo in buona in buona sostanza quindi ecco questo è fondamentale riuscire a mantenere questo tipo di rapporto di fiducia inserendo poi delle cose magari che alcuni fanno ma non in maniera completa invio dei campioncini io ho sempre cercato di darvi l'opportunità di provare prima voi stessi i profumi perché è fondamentale perché io posso posso avere i miei gusti personali ma è giusto che comunque anche voi abbiate o facciate le vostre le vostre considerazioni tutto questo nel cercare di evitare di continuare su una strada che è quella dell'acquisto al buio del blind buy in passato l'ho fatto anch'io tante volte mi è capitato di prendere purtroppo delle delle fragranze che non rientravano nelle mie corde oppure molte volte mi sono fidato di persone come me che fanno questo su youtube o lo fanno in maniera diversa e purtroppo poi dopo si è verificato esattamente il contrario ecco questa è una cosa alla quale ci tengo particolarmente e continuerò a portarla avanti come ho fatto fino fino ad ora ritornando un attimo sul discorso legato ai nuovi prodotti e nuovi marchi sto valutando in particolar modo fragrance world sto cercando di ampliare il catalogo di pari corner perché all'interno di pari corner abbiamo prodotti come emir uno su tutti e che in questo momento è praticamente sold out dappertutto un altro prodotto un altro marchio sempre controllato da da pari corner è ministry of food che sto anche qua valutando un attimino cosa fare con determinati prodotti lo stesso prive zara che ho avuto modo di provare per esempio bua dore che vi accenno due cose è una profumazione principalmente cipriata con delle buone performance sto cercando di valutare pendora shantz come altro marchio non legato a pari corner ecco quindi diciamo che questi sono i primi marchi che andrò a valutare bene nel 2024 per quanto riguarda il discorso afnan molti di voi mi hanno chiesto alcuni prodotti altri mi hanno chiesto alcuni prodotti legati a marchi già esistenti che però è difficile riuscire a reperire o a trovare anche solo in in europa c'è un problema legato a delle speculazioni che determinati fornitori mettono mettono in atto o dei limiti chiamiamoli così nel senso che nella maggior parte dei casi ci sono dei limiti di spesa da dover rispettare per poter acquistare determinati prodotti in altri casi ci sono solo dei limiti di quantità in altri casi ci sono sia dei limiti di quantità che dei limiti di spesa quindi ecco qui è come dire difficile da dover gestire ma non tanto dal punto di vista economico ma dal punto di vista passatemi il termine del cosiddetto rischio di impresa che non è una cosa che riguarda ovviamente voi riguarda principalmente me però è chiaro che io devo essere come dire bravo nel riuscire a gestire quello che è un discorso legato a una gestione passatemi il termine di impresa con quello che per esempio è una priorità legata a un determinato marchio piuttosto che a un determinato prodotto l'intenzione di inserire afnan c'è il problema è che in questo momento ben preciso io in passato ho avuto modo di provare alcuni prodotti di afnan li ritengo sicuramente dei prodotti con un ottimo rapporto qualità prezzo in certi casi è come dire proposto già da dei competitor a dei prezzi folli in altri casi è proposto da dei fornitori a prezzi folli quindi trovare il giusto equilibrio tra il prezzo di acquisto il prezzo che ha la concorrenza di vendita e trovare il giusto range passatemi il termine di margine in alcuni casi c'è il pericolo di finire in sottocosto quindi è giusto come dire no valutarlo come come marchio dal punto di vista di impresa però è anche giusto aspettare determinate condizioni perché perché ci siano come dire no dei vantaggi sia dal dalla persona o dall'impresa che acquista il profumo ma soprattutto dei vantaggi nei vostri confronti che andate ad acquistarli uno fra tutti mi sento di darvi un esempio per farvi capire la tafa la serie pride dove io piuttosto che altri competitor hanno dei prezzi che bene o male sono tutti allineati euro più euro meno centesimo più centesimo meno e poi ci sono delle situazioni che vanno avanti da diverso tempo io parlo anche di anni dove vengono proposti a dei prezzi al consumatore che sono una vera e propria follia uno fra tutti è notino per esempio che propone tutta la serie pride a 56 euro ormai da da diverso tempo lì probabilmente c'è stato un problema legato all'acquisto in passato oppure lì magari c'è una mancanza di di cura da quello che è il controllo tra i diversi competitor questo ecco non deve mai e poi mai assolutamente succedere ma non solo sul mio e shop su qualsiasi e shop su qualsiasi in qualsiasi attività commerciale ma proprio perché non ha alcun senso andare a fare una una politica dal mio punto di vista di vendita in in questo modo detto questo ragazzi andiamo verso la conclusione il video è abbastanza lungo però ci tenevo particolarmente a fare un po il punto della situazione insieme a voi in modo tale che insomma possiate avere un po chiara definita quello che è la mia intenzione insomma per il 2024 legato legato alla all'attività concludo dicendovi un attimo quelli che saranno i prossimi step dei profumi che andremo ad analizzare ea valutare allora chiude chiudiremo chiuderò perdonatemi la recensione di meson asrar di shahin nella versione black che questo però di motivi non annuso perché ancora l'unica cosa sto usando questo profumo in questo momento però non respiro ma con quella roba lì ragazzi è pressoché poi dopo quasi impossibile riuscire a sentire degli odori o dei profumi questo era molto interessante molto interessante perché lo ricordo molto bene legno dagar fumoso una liquirizia morbida in apertura una resina di olivano a rinfrescare e dell'incenso quando le buone performance uno di voi l'ha acquistato mi farebbe piacere sapere cosa ne pensa non ricordo chi però ecco se qualcuno l'ha già acquistato mi faccia sapere l'altro che andremo ad analizzare di casa nesona lambra è dark door qui abbiamo un'ispirazione legata a di or home la versione sport e poi ragazzi ci sono i due confronti da fare con le gara e atlas perché comunque stiamo andando verso speriamo un periodo dovremmo andare ad avere degli sprazi primaverili prima o poi quindi per il cambio di stagione secondo me sono due profumi decisamente da sentire in più poi andremo ad analizzare altre situazioni legate un po alle novità in casa la taffa pride breeze piuttosto che insomma tutto quello che è stato inserito all'interno delle shop allora ragazzi a me non resta che salutarvi ringraziarvi per aver visionato questo video ci tenevo tantissimo a fare un po il punto della situazione con voi sto cercando di migliorare sotto tutti gli aspetti diciamo dal punto di vista commerciale piuttosto che legato al software al sito proprio perché ripeto mi ha delle forti limitazioni però in questo momento la priorità è quello di riuscire ad avere i prodotti è quello di riuscire ad averli al miglior prezzo di mercato in modo tale che ognuno di noi insomma riesca nel suo piccolo ad accedere a questi prodotti che mi stanno dando tanto 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 tanta soddisfazione ragazzi ve lo dico con tutta onestà sono sono veramente soddisfatto di di questi brand spero in futuro che ci siano delle novità ancora più più importanti non mi resta che salutarvi ringraziarvi e aspettarvi tutti se volete al prossimo video ciao a tutti da robbie una buona giornata